Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo vlog Ebbene sì, ragazzi sono sporata di nuovo, sono pessima Vabbè, vabbè, eccomi, sono tornata e quindi sono qui per farvi un vlog perché oggi sarà una giornata, dai, abbastanza interessante diciamo oppure una giornata pigra e voi verrete con me, non lo so, lo scopriamo vivendo Adesso sono circa le 10.40 del mattino, io ho già portato fuori Simba e adesso devo fare gli esercizi con lui, adesso magari vi spiego un attimino di cosa si tratta perché non ci siamo più aggiornati e voi direte ma che esercizi devi fare con Simba? Ve lo spiego, ve lo spiego e quindi, boh, mi siete mancati Allora c'è stata la sessione, ci sono stati altri problemi, ad esempio quelli con il cane che adesso vi spiegherò e quindi non ero nel mood giusto per portare negatività ho preferito non fare niente, tra l'altro ho anche un taglio sul labbro che non mi sta più andando via di quelli creati per il freddo quindi se avete una soluzione, un rimedio della nonna, un prodotto a poter mettere che ve lo può far passare più in fretta, vi ascolto volentieri Ecco, qua c'è Simba che sta dormendo nel letto sfatto e che dobbiamo rifare ma come si fa a dire a questo topolino di spostarsi? Come si fa? Adesso vi faccio vedere, allora Questa è la cuccia, voi direte come mai c'è una gabbia nella cuccia? Avete ragione, ve lo devo spiegare e insomma questa mi serve per fare gli esercizi di cui vi ho parlato ovviamente sono seguita da un educatore cinofilo quindi insomma sto facendo gli esercizi che mi ha detto e niente, ecco qua bimbini eccolo, adesso vi spiego un attimo Ok, sono pronta per spiegarvi diciamo cosa è successo in questi mesi intanto ho rifatto male il letto ora vedo se riesco ad appoggiarvi da qualche parte se c'è una luce meglio ma si dai e vi spiego un attimo allora, cercherò di essere breve no, qua siamo contro luce qua è tutto un po' work in progress comunque cercherò di essere breve perché capisco che magari non a tutti può interessare appunto questo argomento ho fatto gli esercizi con Simba eccetera che bell'intelatura, sto proprio a valorizzarmi e niente allora, cosa è successo? praticamente da questa estate mi ero accorta che Simba aveva un problema ovvero che non riusciva a stare a casa da solo quindi cosa faceva a casa da solo? abbagliava tutto il tempo distruggeva le cose quindi rischiava di farsi male lui ovviamente disturbava anche i vicini perché giustamente se io stavo via 4 ore e lui abbagliava 4 ore posso anche capire che i vicini è una certa mi dicono che dobbiamo fare e niente, quindi ho iniziato a contattare una prima educatrice che mi ha detto che si trattava di ansia e separazione solamente che poi il suo metodo non mi piaceva e quindi tramite una ragazza che ho conosciuto su TikTok che anche lei è un'educatrice cinofila però di un'altra regione mi ha consigliato un'educatrice cinofila che lavora nella zona dove sono io quindi nel Piemonte e niente, l'ho contattata mi sto trovando molto bene lei mi ha affidato a un suo collaboratore che se mai vedesse questo video saluto tantissimo e ringrazio tantissimo che si chiama Stefano stiamo facendo un lavoro incredibile per appunto far abituarsi a imbassare da solo quello che vi ho fatto vedere prima che vi ho chiamato Gabbia perché ancora insomma non ne avevamo parlato si chiama Kennel ed è uno strumento che viene utilizzato diciamo per questi percorsi perché serve per far creare un luogo sicuro al cane in cui si senta tranquillo e non vada in ansia quando appunto i membri della famiglia lo lasciano a casa da solo ho anche solo un membro perché lui l'attaccamento maggiore diciamo che ce l'ha con me e niente se volete che approfondisca un po' di più questo percorso che ho fatto magari faccio un video specifico perché non voglio annoiare diciamo le persone a cui non interessa spiegando passo passo cosa sto facendo anche perché comunque un percorso che va bene per me e va bene per il cincillo messo lì però non è detto che vada bene per tutti i cani ovviamente gli educatori servono a questo se siete del Piemonte vi interessa Piemonte-Alessandria-Torino così vi interessa un educatore molto competente molto bravo io vi posso dare il numero appunto di Stefano magari scrivetemi su Instagram e ve lo consiglio veramente con tutto il cuore noi stiamo avendo dei risultati pazzeschi da che lui abbaiava tutto il tempo adesso siamo arrivati a qualche leggero pianto c'è ad esempio su via 40 minuti lui fa 4 volte tipo cioè ragazzi veramente i miglioramenti incredibili quindi questo è poi in questi mesi come è successo anche? è successo che c'è stata appunto la sessione invernale la sessione invernale è andata bene ho dato tutti gli esami che mi ero prefissata anche dei voti sono abbastanza soddisfatta tranne per diritto amministrativo 1 che è appunto l'unico esame che mi è rimasto l'anno scorso che proprio l'ho recuperato insieme anche a quelli di quest'anno che però era una materia che non mi piaceva che ho fatto fatica a studiare che l'ho rimandata più volte e alla fine ho accettato un 24 che non è un voto brutto però insomma per l'impegno che ci avevo messo secondo me avrei potuto prendere di più però sono andata un po' nel pallone un po' le domande insomma alla fine l'ho accettato perché era veramente un esame che mi pesava veramente tantissimo fare e quindi eccoci qui questo è quello che è successo adesso da poco sono andati via i genitori di Daniele che se mai vi daranno questo video saluto anche loro che sono stati una settimana qua con noi dalla Sicilia sono venuti qua a Torino per festeggiare appunto il compleanno di Dani che ha fatto 30 anni e niente adesso Dani sta lavorando io sono qua a casa e fra poco faccio gli esercizi per il cane che vi ho appena detto quindi questi esercizi consistono che io giornalmente oppure se proprio un giorno non ce la faccio un giorno sì un giorno no cinque giorni a settimana insomma così lo devo mettere appunto nel cannel che vi ho fatto vedere prima e uscire per abituarlo gradualmente appunto alle uscite e con una telecamera che ho comprato controllo come va se piange se abbaia ce lo posso proprio vedere in diretta e quindi così riusciamo a calibrare gli esercizi vedere se dobbiamo modificare qualcosa se invece sta andando tutto bene quindi adesso faccio questo e poi il programma della giornata è andrò da mia mamma così lascio Simba un po' in giardino condado che si fanno le feste ve li faccio ovviamente anche poi vedere perché io e mia mamma vogliamo andare a Torino Outlet penso si chiami così per comprare le sketchers non so se sapete che scarpe sono ma sono delle scarpe da ginnastica che hanno il memory form nella suola e insomma a me piacciono molto quindi andiamo in questo Outlet perché troviamo un prezzo Outlet forse ancora addirittura scontato perché forse ancora ci sono gli ultimi rimasoli di saldi quindi poi faremo ovviamente anche un giro in altri negozi vediamo un po' che negozi ci sono perché è la prima volta che andiamo noi di solito andiamo a Serravalle non so se lo conoscete o a Vico Lungo comunque andremo lì poi la sera tornerò e andrò a Zumba a Zumba quindi vi trò in questa giornata e ora e ora che ho imparato a fare le inquadrature perfette bene faccio l'elettricetto col cane l'elettricetto col cane ovviamente non ve lo mostro perché devo stare in silenzio senza farmi vedere che in realtà io rimango dietro la porta Simba mi raccomando eh non ascoltare in realtà non sei solo mamma in realtà è dietro la porta vabbè e comunque adesso faccio questo noi ci aggiorniamo mi siete veramente mancati ah mi raccomando per il problema di Simba che vi ho detto se voi avete un problema con il vostro cane che vi fa star male che non sapete come risolvere scriviamoci sotto nei commenti che ci teniamo un po' compagnia vediamo quali problemi hanno i nostri amicetti pelosi amicetti e che comunque si possono risolvere tutti bene ci aggiorniamo prima di fare l'esercizio un po' di sano gioco e Simba mi impazzisce con sta corda sto scemo qual è il vostro c'è il gioco preferito del vostro cane il suo assolutamente la corda guardate che cattivo ha quella corda amore bene io ho fatto l'esercizio con il cano e ho preparato lo zaino tra l'altro bellissimo di original maritz che mi avevano regalato da bambina quando comprava i vestiti lì bellissimo lo zaino per mettere le cose con cui andrò a Zumba il mangiare del cane eccetera perché poi andrò direttamente da mia mamma e ora esco ce riusciamo per andare da mia mamma prima faccio una passeggetta con mio papà che mi ha chiamato e mi ha detto che è qui nei dintorni quindi ci vediamo un attimo vediamo se vorrà comparire nel vlog oppure no e vi devo anche dire un'altra cosa a Natale i miei mi hanno regalato una macchina quindi ora ho una macchina che se riesco ora vi faccio vedere devo vedere un attimo come inquadrarla per non far vedere la targa e niente è una Nissan Pixel bellissima la mia bimba la mia bimba vero? vero? e niente quindi ora andiamo ecco lì è felice papà sei comparso nel vlog saluta il vlog ciao bimbi felice allora ecco la macchina con anche delle bellissime mose che mi ha regalato mio papà grazie e ecco così non si vede la targa abbiamo delle macchine dietro questa è la mia Nissan Pixel sto cercando di camminare guardate che bellina non si vede qua ci sono io e niente questo è il colore bellissima eccomi qua sono la mia bimba ho fatto due chiacchiere con mio papà e ora vado da mia mamma così mangiamo qua c'è anche Simba nel suo trasportino legato in sicurezza così ovviamente sono ferma così mangiamo e poi andiamo a comprare le Skechers dai le conoscete anche voi ditemi se vi prego troppo comode con il memory form nella scuola bene vado 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 sono arrivata da mia mamma saluta il video ecco ciao topolini eh vado che belli ecco adesso amore qua c'è anche la mia nonna con le mimose che bella guarda che bella buon appetito eccoci qui siamo in viaggio per l'outlet eccoci ovviamente non siamo nella mia bimba ma ci siamo ci siamo eccoci qua eccoci qui siamo appena arrivate al parcheggio e niente ora ci facciamo un bel giro speriamo di trovare qualcosa eccoci qui ci sono anche tutti dei divanetti questo monumento e poi le vie con tutti i negozi Gucci da qui non entreremo però c'è anche Gucci ragazzi abbiamo fatto le prime compre da Victoria Secret eccoci qua e ora si passa al secondo negozio vediamo se riusciamo a comprare altro ecco qua la seconda pazzia e poi entriamo da Skechers eccolo è lui eh ci siamo cascate da Skechers due bei paio di scarpe ci siamo cascate eccoci siamo al ritorno direi che abbiamo fatto abbastanza danni ecco qua bottino e appena arrivo a casa vi faccio vedere tutto benissimo siamo tornate da Torino Outlet e ci siamo fermate a casa a prendere un bel pezzettino di pizza che ora ci mangiamo e poi vi mostro tutto bene vi faccio vedere cosa abbiamo comprato allora da Yamamai ho preso solo delle cose per me e vi faccio vedere vedete Yamamai Outlet vi faccio vedere intanto ho preso questo reggiseno se vi interessa è una quarta B eccolo qua rosso col pizzo abbastanza classico allora il prezzo di partenza quello intero è 25,95 ma io udite udite l'ho pagato 5 euro perché erano ancora delle rimanenze dei saldi quindi come potevo non prenderlo e anche a 5 euro ho preso quest'altro reggiseno con la coppa tipo fatta così su rosa maculata sempre quarta B prezzo di partenza 29,95 l'ho pagato 5 euro anche questo ditemi come facevo a non comprarlo per 5 euro cioè nemmeno dai cinesi poi invece ancora meno l'ultimo pezzo di Yamamai ho preso questo tanga a 2 euro nero con queste stelline questo elastico ho pensato beh sotto i leggings sicuramente non si vede visto che c'è un filo interdentale quindi l'ho preso dai carino 2 euro non potevo lasciarlo lì purtroppo non c'erano di altri modelli ma vedrete che mi sono abbastanza rifornita di mutande ecco invece da Victoria's Secret abbiamo fatto comprese io che mia mamma io ho preso queste due mutande in taglia S prezzo di partenza 16,90 ma prezzo outed 10,90 così per tutte e quattro le mutande che vi mostrerò io ho preso questa su questi toni un po' tutti misculati del rosa e questa qui uguale a quella di mia mamma quindi vi faccio vedere la mia sono sempre tipo delle brasiliane questa è una brasiliana leggermente più lunga e questa invece è proprio una brasiliana questa qui con questa fantasia color carne con questi soli molto molto carina l'ha presa anche mia mamma cambia solo la taglia e mia mamma ha preso sempre in questo formato di brasiliana ma leggermente più lungo anche questa sul nero stessa fantasia ma a base nera molto molto carine che ne dite poi Victoria's Secret secondo me ha dei prezzi un po' alti quindi l'outed conviene assolutamente poi ecco il pezzo forte da Skechers che si scrive così abbiamo preso due paie di scarpe questo è il mio e questo è quello di mia mamma allora il mio questo è il modello se a qualcuno interessa eccolo qui ho preso un 40 questo è il prezzo prezzi in italiano 85 quello che trovate all'outed 58,99 ed è questa tutta nera opaca bellissima cioè fatemi sapere anche voi comunque tutta nera opaca con questo dettaglio tipo della della gomma un po' elastica molto molto bella con queste scritte Skechers anche sul retro veramente stupenda nera opaca è veramente comodissima perché la particolarità proprio del marchio Skechers è che usa il il memory foam nella nella suole quindi sono veramente veramente super comode molto più delle Nike di tutte le altre fatemi sapere se le avete già provate invece questo è il modello di mia mamma che è più per percorrere più diciamo la versione sport e questo è il il modello se vi interessa ed è fatta così nera con i dettagli sull'azzurro con scritto la SD Skechers sono proprio quelle appunto proprio per camminare walker eccole qua sempre col memory foam dentro stupende vi ho mostrato tutti gli acquisti fatemi sapere sotto nei commenti se vi sono piaciuti e qual è il vostro acquisto diciamo preferito non abbiamo trovato moltissimo ma quello che abbiamo trovato siamo molto soddisfatte adesso io mi rilasso un po' dopo aver mangiato la pizza che si era molto buona e poi vado a Zumba quindi ci aggiorniamo dopo io mi sto cambiando per andare a Zumba e volevo farvi vedere queste leggi sono sportivi che uso che mi trovo benissimo li trovate da Decathlon sono il modello più semplice adesso tagliato le etichette non posso più farvelo vedere però vi giuro costano mi sembra 5 euro o meno di 5 euro e veramente sono fantastici sono un po' trasparenti quindi li metto sempre con una maglia sopra non vanno bene se cercate proprio i top da mettere solo con un leggin sotto e niente sopra però da mettere invece proprio come registrano contenitivo per far sport sono veramente fantastici consigliati ecco qua mi sono vestita per Zumba ho queste scarpe poi dei classici leggini neri di Decathlon questa maglia con scritto Zumba e poi metterò una semplicissima felpa blu tanto non è che mi interessa quando vado in palestra profitto anche per dirvi che proprio per il problema che capelli che ho devo farmi una bella cosa proprio per il problema che ho detto che a Zumba ogni volta che vado a Zumba lo porto da da mia mamma quindi lui sta con con Dado perché ancora non è non è pronto per stare da solo un'ora un'ora e mezza ok quello è il tempo che io impiego per Zumba quindi lo porto a mia mamma lui sta qua ma pian piano ci arriveremo lui qua sta tranquillo c'è il giardino c'è il suo migliore amico carino ora sta dormendo sul mio tappeto e niente quindi ci aggiorniamo più tardi adesso prendo la macchina passo a prendere Dani che viene con me a Zumba lui non fa Zumba ma va in palestra perché io faccio Zumba alla McFit che è una appunto una palestra e niente e poi ci aggiorniamo eccolo qua il mio manzo preferito oh sì oh sì siamo pronti per andare a Zumba eccolo qui e manzo sei pronto per andare in palestra? sì 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 arrivata allora lattini e lattine come vedete io sono tornata a casa ancora qua le cose da sistemare che vi ho mostrato prima da quando ci siamo lasciati ho finito Zumba sono tornata a casa da mia mamma ho mangiato cena e poi ho portato i cagnolini a spasso a fare l'ultimo passaggiato della giornata e poi sono tornata a casa adesso mi faccio una bella doccia perché sono le 10 e 10 ce l'ho fatto un po' tardi e poi vado a dormire quindi direi che possiamo concludere il video qui perché non è che vi perdete granché è arrivato che ci invia a chiedere le coccole quindi io vi ringrazio di aver seguito il video fino alla fine se siete arrivati fino a qua commentate con un emoji gialla visto che oggi è la festa della donna che così ricorda la mimosa ne approfitto anche per fare gli auguri a tutte le donne che mi seguono un grosso bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao